... Omicidio a Treviso e a Guato a Serra Valle, stamane Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura, riflettori puntati sul mondo dell'edilizia, tra appalti rubati e lavoro nero. Ad uccidere una settimana fa a Fiera il Kosovaro 52N sono stati due colpi fatali, uno alla testa ed un fendente alla coscia che ha reciso l'arteria femorale e l'esito dell'autopsia eseguita oggi. La Guato a Serra Valle caccia i complici dei due fratelli albanesi che hanno aggredito e ferito tre connazionali, due dei feriti intanto sono stati nuovamente ricoverati in ospedale. E' morto stamane Walter Frandoli, stroncato in soli quattro mesi da un tumore, calciatore, politico, architetto, era notissimo in città anche per aver contribuito alla salvezza del Treviso Calcio, cordoglio della politica. Sale sull'autobus della mom senza biglietto e sputa in faccia il controllore 23N straniero condannato a sette mesi e 3.000 euro con la donna che pensa di farla franca si sbaglia. Una bomber 300.000 euro di risarcimento per Elvo Zornita, ritenuto per anni l'attentatore, ma le prove a suo carico erano falsificate, l'avvocato Paniz insufficiente, ma anche lo Stato fa ricorso, troppi soldi. A quasi quattro anni dalla tempesta vai a Belluno il punto sui piani comunali e l'organizzazione delle emergenze nel corso della settimana nazionale della protezione civile. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri Tg. Dopo gli episodi di violenta criminalità dell'ultima settimana, questa mattina ha Treviso il Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno preso parte il prefetto Sidoti, il sindaco Conte ed i vertici delle forze dell'Ordine della città, riflettori puntati sul mondo dell'edilizia, tra appalti rubati e lavoro nero. A Treviso una rissa sfociata in omicidio, a Serravalle un agguato finito a colpi di forconi e ammazze, un termometro, quello della violenza nel territorio, che nel giro di una settimana segna gradi molto più che preoccupanti. L'omicidio di Fiera e l'aggressione di Vittorio Veneto, due tragiche e distinte storie di cronaca che raccontano di uno stesso spaccato sociale, legato ad ombre e vulnerabilità di un settore lavorativo, quello dell'edilizia. Una spia questa che ha visto accendere anche l'attenzione del Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, svolta questa mattina una speciale riunione in prefettura Treviso, a cui hanno preso parte il prefetto Angelo Sidoti, il sindaco Mario Conte e i vertici delle forze dell'Ordine della città. Abbiamo preso spunto dai due episodi di rissa, purtroppo anche con una persona deceduta, avvenuti nei giorni scorsi per fare un quadro generale della situazione della sicurezza e anche legato al mondo dell'edilizia. Controllo sulla sicurezza e regolarità del lavoro nel mondo dell'edilizia, capitolo questo che aveva già seglato un incontro nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi, durante un incontro anche sui temi della sicurezza sul lavoro, ANCE, associazioni dell'artigianato, e sindacali, avevano richiamato la nostra attenzione su quel mondo dal punto di vista della necessità di controlli sulla sicurezza sul lavoro, sul lavoro nero, sul lavoro irregolare. E da quel punto di vista infatti sono stati già previsti ulteriori controlli. Controlli intensificati anche nei luoghi più sensibili del territorio, un presidio fitto e capillare che ha permesso un intervento tempestivo negli ultimi episodi di criminalità. L'intervento delle forze di polizia è stato immediato e tempestivo, quindi assicurando l'identificazione e poi arresto o deferimento di stato di libertà alla autorità giudiziaria dei presunti responsabili. Al Mertice di oggi ha partecipato anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Noi viviamo nella città e nella provincia più sicura d'Italia, questo lo dicono i numeri ufficiali del Ministero degli Interni. Ovviamente questi episodi vanno a minare la sensazione e la percezione di sicurezza per i nostri cittadini, però è altrettanto vero che c'è stata una pronta risposta da parte delle istituzioni che nel giro di poche ore hanno assicurato alla giustizia i responsabili. Così il sindaco di Treviso, Mario Conte, dopo il vertice sulla sicurezza in prefettura. Parole che rispondono a chi in città percepiva un vento di paura. Sono episodi totalmente slegati sia l'uno dall'altro ma soprattutto slegati dal tessuto sociale della nostra città e questo francamente ci rassicura decisamente. Dobbiamo continuare a lavorare, alzare l'asticella della sicurezza, scambiare informazioni tra istituzioni e forze dell'ordine e soprattutto rafforzare il rapporto con la cittadinanza che informi di tutte le presenze sospette che ci sono nel territorio. Un omicidio, quello di Fiera, avvenuto proprio lì, in un quadrante della città, tra i più coperti dalla presenza di pattuglie e delle forze dell'ordine. Così ha spiegato il primo cittadino un omicidio che sembra avere radici molto profonde. Probabilmente ci sono anche dei business sommersi, qual è il lavoro nero, però le forze dell'ordine stanno lavorando ognuno per la propria competenza e quindi i casi non resteranno così indiscussi. E sull'omicidio di Fiera è stata eseguita oggi l'autopsia. Rajip Colgeci, 52 anni, Kosovaro, è stato colpito più volte, ma ad ucciderlo è stato un fendente alla gamba che avrebbe reciso la orta femorale ed un violento colpo alla testa. Questa mattina l'autopsia sul corpo della vittima che avrebbe di fatto confermato quanto stabilito poco dopo il delitto. In carcere Balmir Gashi, 32 anni, e lo zio, il 50enne, Afrin Monduka, entrambi kosovari. I due uomini sono indagati per omicidio volontario, sono stati ritenuti dalla magistratura socialmente pericolosi. La violenta rissa terminata con l'omicidio è avvenuta mercoledì scorso, 12 ottobre, nel piazzale del bar La Musa di Viale, 4 novembre, a Treviso. Anche l'agguato di Serravalle continuano le indagini, caccia ai complici dei due fratelli albanesi che avrebbero aggredito e ferito i tre connazionali davanti ad un bar. Intanto due dei tre feriti sono stati ricoverati nuovamente in ospedale. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dove è avvenuto l'agguato, ma soprattutto stanno controllando i contatti, i luoghi di lavoro, le frequentazioni di tutte le persone coinvolte alla ricerca di indizi per risalire all'identità dei complici dei due fratelli responsabili dell'aggressione. Dopo l'agguato a suon di forconi, cacciaviti, piccozze e mazze, almeno due o tre si sono dileguati facendo perdere le tracce, ma per loro le ore sono contate, nei contatti potrebbero esserci i loro nomi. Mentre due dei tre fratelli vittime del pestaggio sono dovuti ricorrere nuovamente alle cure dei sanitari, uno ha subito una grave lesione ad un polmone, l'altro al fegato, ora sono sotto osservazione in ospedale e si cerca il movente di questo brutale agguato avvenuto sotto gli occhi dei residenti. Le indagini dei carabinieri si stanno indirizzando verso il mondo lavorativo che accomuna le persone coinvolte. Tutti lavorano per imprese edili, alcuni con contratti irregolari, non solo, ma sarebbero stati impiegati anche in alcuni casi nelle stesse aziende. Si scava, si cerca di dare delle risposte e di verificare in quale contesto è maturato quello che ormai sembra un vero e proprio regolamento di conti. A guidare la spedizione punitiva i due fratelli albanesi, un 19enne e un 32enne, quest'ultimo arrestato perché in casa aveva 20 grammi di cocaina. Oggi udienza di convalida dell'arresto. Non è comunque escluso alla base di questa aggressione che ci siano anche traffici illeciti. Nessuna pista viene scartata. è morto stamane all'ospedale di Oderzo Walter Frandoli, stroncato in soli quattro mesi da un tumore calciatore politico. Architetto era notissimo in città anche per aver contribuito alla salvezza del Treviso Calcio, un anime cordoglio del mondo politico. Treviso piange la scomparsa di Walter Frandoli, architetto politico, insegnante ed ex calciatore, il decesso all'età di 72 anni è avvenuto in ospedale a Doderzo dove da pochi mesi stava seguendo delle cure al fegato. Molto amato dai tifosi del calcio, Treviso aveva ricoperto la carica di vicepresidente della società contribuendo alla sua salvezza dopo le gestioni precedenti. Stopper del Treviso Calcio aveva vestito le maglie del Venezia e dell'Ancona. Tra i vari titoli sportivi lui è stato campione d'Italia nel 68 con le giovanili del Treviso e poi ha vinto anche un campionato di serie D sempre con il Treviso. Per il sindaco Mario Conte la morte di Frandoli lascia un segno importante nei cuori dei trevigiani così come per l'ex sindaco Giancarlo Gentilini Treviso perde un punto di riferimento. Grande amico nella gestione della città di Treviso ma lo ricordo come sportivo e come elemento che ha sempre si è sempre dichiarato disposto per aiutare chi aveva bisogno. Grande appassionato di politica negli anni 90 era stato consigliere comunale nelle liste della Lega vicepresidente dell'Isdra Treviso nel consiglio di amministrazione dell'associazione per le ville venete e dell'ente parco sile. A condividere il dispiacere anche Giancarlo Iannicelli presidente del consiglio comunale. Un grande sportivo del passato quindi un grande onore per Treviso io l'ho avuto come collega in consiglio dal 2003 al 2008 quindi lui rappresentava portava in sé grandi qualità. Frandoli viveva a Ponte di Piave con la moglie Laura e la mattissima figlia Gaia i funerali verranno fissati nelle prossime ore. Ed è lutto anche a Zenson di Piave per la morte improvvisa a 54 anni di Nicola Sari consigliere comunale molto noto e stimato in paese era in sedia a rotelle dopo un grave incidente stradale e si occupava di sport e disabili si era battuto per la sistemazione della palestra comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche il funerale di Nicola Sari sarà celebrato sabato 22 ottobre alle 10 e mezza nella chiesa parrocchiale di Zenson ancora cronaca sale sull'autobus senza biglietto 23enne condannato a 7 mesi dopo aver sputato in faccia ad un controllore della MOM senza biglietto su un bus della MOM sputa in faccia il controllore condannato a 7 mesi di reclusione al pagamento di 3000 euro l'episodio è accaduto il 12 giugno del 2019 su un bus della linea urbana 3 da Treviso a Silea il controllore impegnato nell'attività di accertamento dei titoli di viaggio chiede ad un 23enne straniero il biglietto questi risponde di essere abbonato ma di non avere con sé l'abbonamento il controllore gli spiega che come prevede regolamento deve stilare un verbale e che il viaggiatore ha poi 10 giorni di tempo per esibire il proprio abbonamento che porterà all'annullamento del verbale alla richiesta delle generalità però scoppia il finimondo il giovane minaccia il controllore cerca di farsi largo a spintoni tra la gente ed infine sputa per tre volte in faccia al controllore danneggiando poi la porta per uscire dopo la denuncia ed il processo è arrivata la sentenza il 23enne è stato condannato a 7 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena al pagamento di 3.000 euro di danni non patrimoniali in favore del verificatore e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile quantificate in oltre 3.400 euro più oneri un segnale importante della giustizia commenta il presidente di MOM con la donna aggressioni insulti danneggiamenti l'azienda denuncia e va fino in fondo conclude tra l'altro si tratta di episodi frequenti attualmente MOM ha pendenti 17 procedimenti penali in attesa di giudizio per fatti analoghi aveva chiesto un risarcimento per oltre un milione di euro lo Stato gliene ha riconosciuti solo 300.000 una beffa per Elvo Zornitta l'ingegnere belunese residente ad Azzano Decimo uscito a testa alta dalla vicenda giudiziaria che nel 2004 lo vide indagato perché sospettato di essere una bomber la prova regina la manomissione in laboratorio di un lamierino scagionò completamente Zornitta al quale l'inchiesta stravolse la vita per sempre assistito dal legale di fiducia l'avvocato Maurizio Paniz Elvo Zornitta ha chiesto i danni per quell'accusa giudicata infamante e quella prova costruita per farlo condannare la valutazione del tribunale civile di Venezia ha quantificato risarcimento in 300 mila euro insufficiente per l'avvocato Paniz che ha impugnato e presentato ricorso ma ricorso è stato presentato anche dallo Stato che giudica eccessiva quella richiesta risarcitoria la prossima odienza è stata fissata per gennaio sono accusati di rapina aggravata resistenza pubblico ufficiale lesioni personali in concorso due fratelli conviventi un 21enne ed un 19enne entrambi percettori di reddito di cittadinanza i due sono stati condannati alla pena di tre anni e due mesi di reclusione uno e di due anni e 18 giorni di reclusione l'altro questa mattina i carabinieri di Castelfranco hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione emessi dalla procura del tribunale di Treviso i fatti risalgono alla notte di Halloween del 2020 quando i due brandendo una bottiglia di vetro avevano percorso con calci e pugni due operai ventenni del luogo ai quali avevano rubato un giubbotto e uno zaino contenenti effetti personali della circostanza gli arrestati si erano poi scagliati anche contro la pattuglia dei carabinieri che era intervenuta tempestivamente in loco e che era dovuta ricorrere a causa della resistenza opposta alla loro immobilializzazione forzata caro bollette non c'è pace per i ristoratori che dopo la pandemia si trovano ora a far fronte alla nuova emergenza dovuta appunto determinata dai rincari delle bollette siamo andati a Oderzo da uno dei ristoratori diventati il simbolo dei danni provocati alla categoria dal covid vediamo in una foto apparsa sui social Beppo Tonon era diventato il simbolo della disperazione dei ristoratori nel periodo buio dovuto alla pandemia poi ha rialzato la testa e ha ricominciato a sorridere è stata un po' lunga però diciamo che quest'estate abbiamo lavorato molto bene si sono riprese tutte le feste tutti gli eventi i matrimoni tutto quello che si fa e anche la gelateria ora però la preoccupazione del caro bollette riporta il pensiero seppur in modo diverso ai problemi di due anni fa adesso però speriamo che dopo la pandemia non arrivi anche il problema dell'energia che è già arrivato è già arrivato qui da noi non è ancora atterrato in quanto avevamo un contratto che ci tiene in piedi ancora per due mesi poi vedremo cosa succederà l'attività non si ferma dunque e il lavoro non manca nemmeno le prenotazioni ma le preoccupazioni rimangono se arriva il problema sicuramente dovremo fare un'analisi di cosa ci conviene fare se tenere aperto o tenere chiuso oppure tenere chiuso solo in quelle parti che non c'è lavoro e sarà quello l'orientamento perché quando gli orari di lavoro io credo che noi dovremo tenere chiuso il locale e aprirlo solo quando c'è il ciclo di persone che arrivano i suoi dipendenti sono preoccupati beh in questo momento no perché in qualche modo anche quando c'era la pandemia o con una cosa o con l'altra sono sempre stati in qualche modo coperti va bene però siamo qui che viviamo un po' l'attesa e quest'area di attesa di quello che succede che non sappiamo la speranza è sempre viva in Tonon e c'è ottimismo anche nei confronti delle istituzioni nel mese di novembre è sempre stato un mese molto debole di lavoro anche per eventi adesso si sta riempendo tutto il sabato e la domenica con eventi feste lauree compleanni la gente ha anche voglia di uscire di festeggiare va bene è stata troppo in prigione in qualche modo speriamo che non ci siano appunto questi eventi straordinari che mettono paura perché in qualche modo la paura vedo che è già stata un po' superata lo vedo nell'atmosfera delle persone nell'aria della gente si fida di questo governo che sta nascendo? io ho tutte le ottime speranze di fidarmi che mantengano quello che hanno promesso speriamo che sia la volta buona ed ora parliamo di smog migliora la situazione a Treviso oggi tornano a circolare tutti i veicoli da allerta arancione si torna al verde da allerta arancione il livello previsto dalle misure di contenimento delle polveri sottili diventa verde il traffico a Treviso torna alla normalità Arpav ci ha comunicato questa retrocessione da arancione a verde quindi le condizioni climatiche sono migliori è chiaro che siamo sempre nell'accordo di Bacino Padano quindi la situazione è sempre tendenzialmente importante dal punto di vista dell'inquinamento però siamo felici di essere ritornati a questa condizione cosa cambia? potranno circolare fino agli Euro 4 diesel compresi e gli Euro 0 Euro 1 Euro 2 a benzina è chiaro che abbiamo fatto una serie di deroghe perché sicuramente non possiamo bloccare la città anche perché lo sappiamo benissimo che non è la prima fonte di inquinamento quello delle auto ma da questo punto di vista tutti i cittadini possono andare sul sito del comune e cercare se ci sono delle deroghe a cui fa riferimento le battaglie dell'amministrazione comunale per contrastare l'inquinamento non riguardano solo il traffico veicolare diciamo questa amministrazione l'Europa ce l'ha anche riconosciuto fa, ha fatto e farà ancora una battaglia forte verso l'inquinamento da una parte piantumando tantissimi alberi e lo stiamo facendo con la forestazione urbana che ci dà ragione visto che anno dopo anno si sta abbassando il livello medio di inquinamento ma anche con il bando caldaio che anche quest'anno è andato fortunatamente tutto esaurito vuol dire che i cittadini ci tengono l'utilizzano e che è stato costruito in maniera intelligente scatterà lo stesso il prossimo 30 ottobre la domenica ecologica uno stop imposto dalla legge una volta al mese i veicoli dovranno fermarsi dentro alle mura dalle 9 alle 18 potranno circolare in deroga i veicoli dei residenti o domiciliati in centro storico o diretti in un'auto rimessa i veicoli a motore elettrico o ibrido GPL e metano deroghe anche per disabili e persone che necessitano di cure ci fermiamo ora per la pubblicità lì nella regiare tra poco restate con noi eccoci nuovamente in diretta con il Tg di Treviso questa mattina in piazza dei signori centinaia di bambini delle scuole elementari cittadine si sono trovate faccia a faccia con quattro grandi campioni dello sport del passato un campione per amico l'iniziativa per ripartire dopo la pandemia attraverso i valori dello sport divertitevi divertitevi e divertitevi ciao centinaia di bambini musica ma soprattutto loro le star dello sport una giornata dedicata allo sport con un team d'eccezione Adriano Panatta Martín Castrogiovanni Francesco Ciccio Graziani Andrea Lucchetta una magia per i più piccoli che non dimenticheranno facilmente lungo come il radicchio tra vigiano sposone frizzantino come il prosecco sono qui per animare in loro la voglia di divertirsi ed è la cosa più bella perché questa è una manifestazione l'unica che ci fa girare in tutta Italia prendendo i bambini facendoli sorridere e restituendo interessi illimitati per la loro vita un grande evento quello di un campione per amico itinerante in tutta Italia dedicato ai bambini alle scuole elementari calci in porta schiacciate dritti e rovesci chi più ne ha più ne metta tanti sport diversi uniti da un unico messaggio il messaggio è quello di fare sport perché dopo la pandemia tanti bimbi si sono fermati e allora lo scopo di oggi è farli riprendere e rientusiasmarsi e anche perché ultimamente sono troppo legati alla tecnologia visita con sorpresa per i nonni della casa di riposo Zalivani una delegazione dei titolari delle fiere di San Luca ha portato un po' di attrazioni nella casa di riposo per fare un po' di festa vediamo abbiamo portato le frittelle l'oca rosta e lo zucchero filato e vedo che è riuscito tantissimo pomeriggio di festa per i nonni dello Zalivani con le fiere di San Luca come ogni anno non è mancato l'appuntamento con gli ospiti della casa di riposo dimostrando che la spensieratezza non ha età oggi dopo tanto tempo mi sembrava quasi di essere tornata a casa una giornata meravigliosa meravigliosa a dire poco carinissimi tutti accanto alla festa ci sono i ricordi come quelli di nonna Teresa Zara 98 anni 60 dei quali vissuti proprio a fiera mi ricordo quando i miei bambini andavano alla fiera gli davo 50 centesi per ciascuno da 10 minuti tornavano a casa mamma dalla terrazza mi chiamavano mamma li abbiamo finiti e allora le davo altri 50 e poi tre volte comunque alle 6 dico dovete essere a casa e alle 6 erano a casa e ho fatto gli anni più belli le dico che è 60 anni che vedo le fiere per questo le fiere di San Luca sono da generazioni un vero e proprio rito laico a tutte le età perché si parte da piccoli con le giustrine per arrivare da adulti al folpo e al loco arrosto ma ci sono cose che accomunano tutte le stagioni e sono i dolci e le castagne e sarà una sfida dolce quella di venerdì pomeriggio con le torte dei ragazzi speciali accompagnate dalle premiazioni per il concorso di disegno tra le scuole per il finale di sabato sera quando tanti nonni con i nipotini saranno con il naso all'insupervedere dalle 23 i fuochi d'artificio lungo il sile anche questo è un rito immancabile per San Luca e le sue fiere millenarie e un altro appuntamento per questo fine settimana a Treviso in centro è quello con la rassegna vinicola Rosso Bordeaux vediamo i bordolesi del Veneto hanno dato sfoggio e gusto a Rosso Bordeaux la rassegna vinicola promossa dal consorzio Vini del Montello che assieme a quello dei Coli Ugani ha incontrato domenica a Palazzo Giacomelli nel centro di Treviso pubblico e appassionati con oltre 60 vini ci sono anche queste chicche storiche che arrivano dalla tradizione che passano attraverso la custodia dei nostri viticoltori che sono anche imprenditori ed è giusto in un momento appunto felice per il Prosecco andare anche a pensare ai vini rossi ai vini del Montello vini di 200 anni di storia che hanno tradizioni tradizioni affinamento ancora in rover in botti per cui insomma probabilmente ecco io non sento più parlare di queste cose qui quindi è interessante riscoprirle la manifestazione rientra nel calendario delle celebrazioni di Padova Venezia Treviso Rovigo capitale della cultura di impresa 2022 progetto promosso da Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo e si inserisce tra le iniziative che il Consorzio Vini del Montello ha ideato per valorizzare lo scrittore trevigiano Giovanni Comisso il primo paesaggio di cui ha parlato è stato proprio quello del Montello Comisso incrocia questo luogo nell'infanzia nella gioventù durante la guerra mondiale nella battaglia del Sostizio e poi nella maturità perché era il luogo che gli dava serenità ed ora è il momento delle notizie da Belluno e provincia Quasi quattro anni fa tra il 28 e il 29 di novembre sulla provincia di Belluno e le aree limitrofe del nord-est si è abbattuta la tempesta Vaia se ne è parlato diffusamente in questi giorni durante le celebrazioni della settimana nazionale della protezione civile per una verifica puntuale dei piani comunali e dell'organizzazione nel caso di grandi emergenze Un disastro fra i più gravi di sempre più dell'alluvione del 66 di quella del 2010 e di altri eventi estremi registrati nel bellunese danni per quasi 2 miliardi di euro la tempesta Vaia che si scatenò fra il 28 e il 29 ottobre di quattro anni fa è diventata materia di studio anche per ciò che ha insegnato in termini di prevenzione su tutti il lavoro in rete fra i soggetti chiamati ad intervenire in situazioni che il cambiamento climatico sempre più traduce in vere e proprie emergenze è stato fondamentale nella parte di previsione è stato fondamentale per aver salvato la vita veramente a delle persone sul territorio Vaia è stata utile per testare il funzionamento delle strumentazioni indispensabili nei soccorsi i ponti radio e i telefoni non funzionavano più i ponti radio perché le batterie erano terminate e era impossibile riuscire ad andare ad alimentare questi ponti questo ci ha insegnato che ci siamo organizzati e dovremo fare degli investimenti ancora per il futuro su questo tipo di problematica Se ne è parlato diffusamente nel corso della settimana nazionale della protezione civile appena andata in archivio negli ultimi 4 anni le cose sono cambiate decisamente ma servono ulteriori sforzi Abbiamo fatto degli investimenti noi e anche le altre forze in campo per adeguare le postazioni ma certo che in montagna ne abbiamo tantissime noi come soccorso Pino ne abbiamo 27 e i costi di investimento sono veramente importanti quindi dobbiamo farlo con una gradualità Un premio per i dipendenti delle case di riposo che si mettono in gioco per aiutare a trovare personale 250 euro lordi per ogni segnalazione altrettanti al quarto mese di permanenza del nuovo assunto è quanto previsto dall'accordo integrativo siglato dal comparto della funzione pubblica di Cigelle Cisewil di Belluno con il direttore dell'azienda dei servizi alla persona di Longarone e Zoldo per le case di riposo Barzan e Santin l'accordo si inserisce in un contesto di grande difficoltà per le case di riposo belunesi che da mesi fronteggiano una gravissima carenza dei profili assistenziali e sanitari tra le novità segnalate dai sindacati anche l'impegno dell'azienda consortile che si sta muovendo nel territorio della Val di Zoldo per cercare all'oggi da mettere a disposizione dei neo assunti e continuiamo a parlare di sanità con le eccellenze in Veneto a Belluno ora spicca la radioterapia eccellenze in sanità grazie alle nuove strumentazioni e a nuove competenze per gli ammalati che necessitano di radioterapia in particolar modo per le patologie tumorali della prostata e del seno si aprono nuove possibilità grazie alla nuova macchina che è stata implementata qui a Belluno siamo in grado di fornire dei trattamenti con poche frazioni con lo stesso risultato oncologico e minor tossicità per la prostata con il nostro staff stiamo portando avanti ormai da un po' di tempo un percorso molto importante in cui i pazienti eseguono il trattamento in 5 sedute facendo sì che il trattamento sia una valida alternativa all'intervento chirurgico ne guadagna la sanità pubblica riducendo il numero degli interventi necessari ma soprattutto ne guadagna la salute e la qualità della vita dei pazienti e delle pazienti si valuta la possibilità di eseguire il trattamento solo e esclusivamente sul letto tumorale quindi andando a ridurre in maniera importante la tossicità del trattamento radiante anche in questo caso con un trattamento che si risolve in 5 giorni offrendo al paziente anche con una malattia avanzata una possibilità terapeutica importante che impatta sulla sua sopravvivenza ed è tutto per questa edizione grazie per la vostra attenzione ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est il meteo arrivederci ben trovati al meteo correnti più umide sud-occidentali interessano il nord portando molte nubi ma piogge blande o del tutto assenti vediamo come sarà la previsione sul nostro territorio sul Veneto la grafica di venerdì 21 ottobre ci mostra che la giornata non sarà baciata dal sole avremo cielo coperto dappertutto e non si escludono delle precipitazioni che interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini e in maniera irregolare anche le zone pianeggianti centro-settentrionali temperature in lieve calo minime tra 11 e 13 gradi massime invece comprese tra i 19 e i 22 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia stesso contesto cielo in prevalenza nuvoloso anche in questo caso poi dal pomeriggio saranno possibili delle piogge a carattere sparso temperature minime sui 13-16 gradi massime intorno ai 20-22 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige anche qui nuvolosità diffusa come ci mostra la nostra cartina verso sera e nella notte prime precipitazioni temperature minime intorno ai 13-14 gradi massime sui 22 all'incirca dal meteo per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento busti tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene e no 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 Grazie a tutti.